Bentornati al... Liceo Golden Pins! Buon compleanno, Barbie! Oh, Lily, sai che mi piacciono i coriandoli. E, Ayana, tu sai che adoro le sorprese? Non potrei avere due amiche migliori. Visto che le lezioni sono finite, avete ancora voglia di... Manicure e pedicure! Lo prendo per un sì. Sì! Ritagliati un po' di tempo anche per il mio regalo di compleanno. Ta-da! Aspetta, cosa? Quelli sono i biglietti per il concerto di stasera delle Extra! Che regalo meraviglioso! Sì! Oh, mi ero scordata che stasera devo fare la babysitter dagli Harris. Niente paura. Ho già chiesto a Skipper di sostituirti per stasera. Sul serio, Ken? Allora possiamo andare al nostro primo concerto. Ok, magari adesso urliamo un po' meno. Sì! Wow! Avevamo parlato di manicure e pedicure, ma adesso mi sento più in vena di una maschera facciale. Perché scegliere quando si può fare tutto? Grandioso! Wow! Fantastico! L'aereo vi sta aspettando. Allacciare le cinture! Extra! 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 Wow! Grandioso! Uh, sorpresa! Buon compleanno! E vai! Che bello! Un'altra sorpresa! Ci siamo dati appuntamento qui! E che bei vestiti, ragazzi! Lo sai che vado pazza per i glitter! Quanto mi sto divertendo! Chissà come se la sta cavando Skipper. Cerca di ricordarlo, Skipper! Tu ami i bambini! E anche tua sorella! Tu ami tanto i bambini! E ami tanto tua sorella! State zitti, per favore! Siamo forti e favolose! Siamo sicure e brillanti! Siete la mia band preferita! Siamo intrepide e coraggiosi! Questo è il mio primo concerto! Noi siamo l'Estra! Sappiamo che c'è qualcuno che compie gli anni tra il pubblico. Barbie, vieni qui! Barbie mi ha detto che tra poco c'è qualcun altro che compie gli anni! Sì! Allora vogliamo dedicare il nostro nuovo pezzo a Barbie e Ken! Tanti auguri a tutti e due! E uno, due, e uno, due, tre, quattro! E uno, due, e uno, due, tre, quattro! E uno, due, e uno, due, tre, quattro! E uno, due, 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 e uno! Pronti? Sì? Dite, è il nostro compleanno! È il nostro compleanno! Oh! 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 So you start by putting the red... Wow! Be together. Group shot!